Buongiorno a tutti gli appassionati di calcio e non solo, oggi siamo al comunale di Longarone per l'ottava giornata del campionato provinciale giovanissimi bellunese tra la squadra del Longarone e la squadra dell'Alpago il tempo oggi prevede un bel sole terreno secco, come potete vedere è stato abbondantemente bagnato per renderlo un po' più soffice vediamo ora le formazioni delle squadre l'Alpago, che gioca con il modulo 5-5-5 ormai collaudato soprattutto per le trasferte vede in porta Ruffarè e Mattias con il numero 1 in difesa gioca De Battista Luca, De Fina Giovanni De Bona Dilan e Vertucci Andrea la linea di centrocampo è data dal numero 4 Goseni Kevin dal 7 Zanon Lorenzo dall'8 Piedonandrea dal 10 Piazza Marco davanti giocherà il 9 Piero Bon Alessandro l'11 Soccai Stefano a disposizione con il 12 il portiere Petterle Gabriele con il 13 De Col Luigi 14 Maricic Milan con il 15 Fagerazzi Gabriele il 16 a Bortot Gabriele e il 17 a Gandin Samuele oggi la partita vi è offerta dalla rete Alpagota Sky Alpago rete ideata, gestita, concepita da De Bona Eros figura della Ferrari prestata al calcio grazie, arrivederci grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti